Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Che tramite questi pod ti permette di avere la sensazione di star bevendo altro Quando in realtà stai bevendo semplicemente l'acqua che hai aggiunto E sostituendo questi pod avete invece l'impressione di star bevendo altro E se fate punto esclamativo e i rap in chat Avete la possibilità di avere un pacchetto molto speciale a un prezzo ottimale Mi raccomando ragazzi, tra l'altro c'è un po' pieno di borracce di rap Questa qua è un pochino più vecchia e questa qua un pochino più nuova E sono veramente veramente una bomba Quindi le metterei tutte... Come ha detto Ramsk puoi lavorare, puoi essere in vacanza quello che ti pare Ma se ti manca il tuo fidanzato le chiamate alla mattina, alla sera prima di andare a letto le fai Non è che ti invidi un messaggio in una settimana E se poi gli hanno confermato a Francesco che ha fatto altro in vacanza Persone fidate a lei non avrebbero motivo di dir cazzate Pensa che amici stretti che c'hai Anis Cioè l'infamato Ma io so già chi gliel'ha detto E manna laffa Per voi invece sono curiosa, per voi uomini Cioè quando è il momento di portare rispetto a una persona? Cioè... Beh sempre, di base, di rispetto No, bravo, bravo Bella risposta, bella risposta Molto bella, molto bella Sempre, sempre, perché c'è un motivo per cui voi non dareste rispetto a una... No nel senso io quando inizio a frequentare una persona da che momento devi portargli rispetto? No, nel senso... C'è... C'è il C13 Faccio bene, costa 1000 euro Va bene, va bene Costa 1000 euro, è entrato Era con la moglie, ha preso due bottigliette d'acqua Una fine sera guardiamo il foglio, eh Le bottigliette d'acqua su qualcosa che non va Hai sbagliato No, no, mi hai chiamato camariere Non bevevo, non bevo un sovacuo Però puoi di entrare Capita, tutti i personaggi così che vengono, che spendono Assurdo Gente strana e piena Sì Sì, bello Hai espresso una volontà in un giochino Sì Di fare sesso con il sottoscritto Ok? Mi pare di ricordare Sì D'accordo? Sì Questa volontà, insomma, momentaneamente è realistica O si basa su una pura e mera finzione? No, è realistica, non dico le cose per finta Sto male È vero, però l'avevo Era scommessa No, no, hai ragione Io le scommesse le pago Si pagano No, no, è vero, si pagano Si pagano, si pagano Allora Ho perso Secondo voi Quanto sono importanti i soldi in un uomo? Pensate bene prima di dire la puttata Ora, io ce l'ho Ma perché io penso veramente Dipende dalla personalità Allora, se Dici Per uno schiaffettino Perché a te se ti do uno schiaffo senti qualcosa? Prova Lui senti anche adesso Prova Boh Non mi hai preso? Ma te sei matto È matto Assurdo Ragazzi è vivo Che è infatta È vivo, è vivo Loro non si muove Insieme non hanno mai accettato Il fatto di essere innamorati Vabbè, insomma Ognuno c'ha le sue storie No, è un mascara Perché hai mano un mascara? Ah, se vuoi mano un mascara? Vabbè Che cosa sembrava? Qualcosa di diverso? Non si dice Non si dice Non si dice Tu David, sai perché Maria Vittoria ha spopolato su TikTok? Credo Una ragazza dello speed date Io? Un saluto a Beppe Sì, ormai Oh, comunque Quando vede Miglio Tipo quando nei fantasginitori Quello che faceva Dinklerberg C'è lui che fa Miglio Sì, comunque Sono po' i versi tuoi Dinklerberg Beppe Ragazzi Quindi forse potrebbe un po' ricollegarsi Stavo dicendo una stronzata No, sì, ma è così Ad esempio Oggi Mentre stavo in live Ho detto Ah, raga Ma è possibile Che io mi senta in colpa Se salto Un giorno Due giorni De fila di live Ma guarda Pensandoci È strana come cosa Cosa? No, niente Guarda, Simone Guarda È strana come cosa Vuol dire Che ti piace il tuo lavoro Ma che sei ossessionato Da sta cosa Anch'io Tu sei più avanti Comunque Sì, tu sei molto più avanti Ma vai Io sembro Sì, ma Qua c'è C'è un Un uccurele Io Sì, ma io ho i tacconi Adesso Sono la più bassa, raga Un giro Sì, sì, sì Prego Se siete imponenti La vostra postazione Grazie Non è molto Il microfono Perché Perché È un gioco È un microfono Di una broderata di Elgato Ma lui lo tiene Ho capito Lo tiene Ma che lo tenga bene Cristo benedetto Sì, ridelo Un po' ti commenti Non ho capito niente Alessia Salva Ilonora Ok, dimmi Allora, ora che Alessia Salva Non ci sente Ok Ora che Alessia Salva Non ci sente, no? Non ci sta sentendo, lo giuro Dimmi tre cose Che cambieresti Della tua migliore amica Allora Uno rispondere male È la prima Dove essere per malosa Hai capito, zoccolona? Non penso che Vai Vabbè, pensavo di cesti di novi Un sesco Un drink Due Tre, quattro No, è Amiche Amiche, un tossico Gin Lemon Gin Lemon Gin Lemon Ma tu, Nick, hai messaggiato un Gin Lemon o? No, Gin Lemon no A me piaceva Vabbè, però ero più piccolina Quindi magari anche questo Invece la cantora Ma gli bollava Perché sapeva da stupro Proviamo, facciamolo Facciamolo Ok, ok Tu invece, Alessia Salva Silenzio Vai, vai, vai Allora, io sono Alessia Salva Mi avrete già visto Perché lui mi prendeva in giro Alla fine l'ha abusato Sono sempre lì E niente Ciao a tutti Mi fa molto piacere essere qua E vi voglio bene Ok Alissa Ciao Quindi l'età era Vabbiamo arrivato Lì 20 Devo fare 21 Valeria Io ne ho appena fatti 20 Ah, 20 20 Sapete che è l'età del diavolo? L'età del diavolo Non avete letto 20 Lo storytelling di cosa Del diavolo? No Che dice che a 20 anni Il diavolo nasce E diventa figlio di puttana Ah Non so No, no, no Una storia famosissima Ma questa qui senza nicotina Eh, appunto Eh, non va bene Eh, no Perché così vuol dire Che ti vuol solo fare del male Senza motivo Se la nicotina è una dipendenza Quindi qui ce l'accetta Vabbè Quindi per quello non si può Non si può Non si può Comunque Allora, non so se vi conoscete il Don Piacere Alessandro Ok Lui è praticamente il direttore Di queste live Ok Cioè se questo è reso possibile Grazie a lui Sembra un mafioso No, ma chiamo più Ok, no Lui è il direttore di queste live Ovvero che grazie a lui Queste live Come a Luna A Luna riviamo A Luna entri Esatto Perché sono Scusa Mezzanotte 27 Vabbè Dipendiamo tutti a lista Cosa vuol dire che raggi fino a Luna Alessandro Eh Cosa vuol dire che raggi fino a Luna Mi siete mai sboccati in bocca da sole? No No Mai Comunque hanno scritto Hanno scritto L'onera non potrà mai competere con Donna No Avete pubblicato tra l'interno Da fare Molto interessanti Da sporcarci? Non ho capito No, no, no Da essere Certo È che non sanno abbinare Porca vacca Assolutamente Madonna È una papilla A volte è pacchianata Il gusto è un papilla Perché Io ti decido Cioè invece persone che magari comprono le cose Esatto A pochissimo Ecco Hanno magari i gusti migliori Sono d'accordo Perché A me? Sì, è quasi un anno che guardo le live Come cazzo lo muti sto microfono? Così? Premendo qua Vedi? Ah, ok Se non si fosse mutato Allora No No, no, no Vabbè Ma sì Ma lascia correre Qual è che è? Era questo? Non lo so Ce ne sono tanti Non se ne frega Guarda che se tu vai a cercare il messaggio nella chat Ne possono essere 500 Ok Infatti va Prendi Lascia stare Porca puttana Hai messo la chat in pausa? Oh Hai messo la chat in pausa? Basta che scorri fino alla fine